ciao a tutti sono claudio sergente odontoiatra presso le cliniche doneddu qua il mio forte sono praticamente l'estrazione vi raccomando due cose molto semplici dopo che subite l'estrazione del vostro dente evitate di fare sciacqui di mangiare cibi caldi niente evitate cibi piccoli minestrine semolini vi consiglio di mangiarvi un bel gelato freddo e poi il giorno dopo le estrazioni potete fare gli sciacqui con il vostro colluttore ciao